Non vi sono forse giorni della nostra infanzia che abbiamo vissuto così pienamente come quelli che abbiamo creduto di aver trascorso senza viverli. I giorni passati in compagnia di un libro prediletto. Il gioco per il quale un amico veniva a cercarci durante il brano più interessante, l'ape o il raggio di sole fastidiosi che ci costringevano a cambiare di posto, il pranzo che ci aveva costretti a tornare a casa e durante il quale pensavamo solo a quando, subito dopo, saremmo saliti a terminare il capitolo interrotto. Chi non ricorda come me quelle letture fatte all'epoca delle vacanze? La mattina, rientrando dal parco, quando tutti erano usciti a fare una passeggiata, io scivolavo nella sala da pranzo dove, fino allora ancora lontana del pasto, non sarebbe entrato nessuno, salvo la vecchia Felicì, relativamente silenziosa. Dopo pranzo riprendevo subito la lettura. Soprattutto se la giornata era un po' calda, ognuno si ritirava di sopra nella propria camera, il che mi consentiva di raggiungere la mia per la scaletta dai gradini ravvicinati. Non ero rimasto a lungo a leggere nella mia camera che già si doveva andare al parco, a un chilometro dal villaggio. Ma dopo il gioco, obbligatorio, acceleravo la fine della merenda, portata nei panieri e distribuita ai ragazzi sull'erba della riva del fiume, dove era stato posato il libro, con la proibizione di riprenderlo in mano. E talora, a casa, nel mio letto, molto tempo dopo la cena, anche le ultime ore della sera davano asilo alla mia lettura. Ma questo solo in quei giorni ero arrivato agli ultimi capitoli di un libro e non mancava più molto alla fine. Allora, rischiando di essere punito se mi avessero scoperto e rischiando l'insonnia che terminato il libro sarebbe forse durata tutta la notte, non appena i miei genitori andavano a letto, riaccendevo la candela. Poi, l'ultima pagina era letta, il libro era terminato. Bisognava fermare la corsa sfrenata degli occhi e della voce che seguiva tacita, fermandosi solo per riprendere fiato con un respiro profondo. Marcel Proust da Il piacere della lettura.